Il 16 aprile scorso, la serata di Pasqua. Un uomo col volto travisato ed in abiti da lavoro entra nel deposito degli automezzi della società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Noto. Si dirige verso un autocompattatore con fare circospetto, si guarda attorno, poi scaglia qualcosa contro il finestrino del mezzo. Nell'operazione cade da una delle tasche una bottiglietta all'interno probabilmente del liquido infiammabile. L'uomo apre lo sportello, entra a bordo del mezzo, in pochi istanti ne cosparge l'interno e appicca il fuoco. Mentre le fiamme si sviluppano si allontana e scappa scavalcando il cancello. Sono queste le immagini attraverso le quali gli uomini della Guardia di Finanza e della Mobile di Siracusa sono riusciti a ricostruire ogni aspetto della tentata estorsione ai danni della Roma Costruzioni SRL. L'incendio dell'automezzo, secondo gli investigatori, era la punizione per il rifiuto all'assunzione di due persone indicate dal gruppo Malavitoso. Spicca il nome di Angelo Monaco, 62 anni, storico appartenente al clan Trigili e già condannato per associazione di tipo mafioso e destinatario di l'ordinanza di custodia cautelare in carcere adesso. Sarebbe lui, secondo le ricostruzioni dell'accusa, il promotore del tentativo di estorsione. Stessa misura, ordinanza di custodia cautelare in carcere per Pietro Crescimone, classe 62, e Giuseppe Casto, classe 82, già condannato per omicidio volontario e autore dei reati contestati durante la fruizione di un permesso premio. Domiciliare invece per Vincenzo Guglielmino, classe 1954, che avrebbe agito in nome e per conto di Angelo Monaco avanzando la proposta estorsiva alla rappresentante legale della Roma Costruzioni.